ben ritrovati a tutti allora iniziamo questa questo secondo modulo del corso ventilazione meccanica controllata e fan coil sempre io mi chiamo rossato e cinzia trevinio la collega che vi terremo compagnia in questo pomeriggio per approfondire questi temi bene un breve scursus su quello che è la piattaforma quindi vedete che sulla destra potete chattare potete fare delle domande inerenti al corso di oggi pomeriggio e una raccomandazione presentate sempre una domanda per volta attendete che chi vi precede abbia ricevuto la risposta e poi formulate tranquillamente tutte le domande che che riterrete opportuno inerenti al tema di oggi bene quindi ieri abbiamo visto la ventilazione meccanica controllata oggi vedremo la parte venti convettori quindi terminali ad aria per fare il caldo freddo in tutte le sue sfaccettature e anche un'interessante integrazione con il sistema combinato vmc clima ok bene quindi vedremo il programma si compone nella parte si sviluppa nella parte dimensionamento terminali quindi la parte unità canalizzabili e vmc clima quindi unità pavimento pari di soffitto i vari componenti la parte termoregolazione e faremo degli approfondimenti poi eventualmente all'occorrenza se non ha potuto seguire il modulo ieri entro un paio di giorni riceverà potrà andare sul channel youtube rossato e potrà vederlo tranquillamente non vi preoccupate bene per chi non ci conosce rossato produce progetto e produce un sistema integrato quindi si pone come unico interlocutore per avere un'installazione semplificata progettazione anch'essa semplificata e questo permette di razionalizzare il progetto e risulta avere un miglior rapporto tra investimento beneficio e durata come molti sanno noi produciamo pompe di calore ad alta efficienza da oramai oltre un decennio non siamo quelli dell'ultimo momento del business quindi i nostri prodotti vantano cinque anni casco di garanzia e una gamma completissima quindi abbiamo una gamma veramente super completato la parte trattamento aria quindi che stiamo vedendo nella diciamo in questi due pomeriggi con recupero di calore quindi ventilazione meccanica controllata e con la possibilità di avere regolazione evolute e soprattutto sistema che viene sempre maggiormente richiesto in edifici moderni le slide di ieri come dicevo è possibile se se era registrata le riceverà tramite link altrimenti il la video call di ieri sarà pubblicata sul channel rossato youtube quindi potete rivederlo potete logicamente non avere le slide potete scorrere fermarle insomma e gestirle quindi dicevamo che a gamma prodotti da quasi un decennio abbiamo venti conventori a bassa temperatura specifici per abbinamento in pompa di calore e in tutte le sue forme poi oggi sarà il tema di questo pomeriggio quindi avremo modo di approfondire in maniera puntuale sistemi radianti praticamente tutto a basso spessore quindi soffitto pavimento parete in tutte le sue declinazioni sistemi solari termici qui abbiamo vantiamo decine e decine di anni di know-how e applicazioni quindi spaziamo i sistemi modulari per integrazione riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria per la parte termoregolazione building automation qui l'azienda negli anni vanta veramente un know-how e una capacità applicativa di sistemi complessi tendenzialmente molto avanzata quindi ci occupiamo della parte termoregolazione building automation da semplice centralina differenziale fino a soluzioni integrate di condomini con contabilizzazione e gestione da remoto da smartphone con app dedicata e poi completiamo diciamo tutta la parte gamma prodotti con tutti quelli che sono gli accessori di magari una centrale più o meno grande o accessori anche per piccoli edifici in maniera tale da completare quello che è una soluzione di sistema bene al termine del corso vi sarà inviato un link entro le 48 ore dove riceverete le slide per chi dovesse avere problemi di non essere registrato in ritardo quando non arriva comunque il videocorso sarà disponibile sul channel rossato youtube entro tre quattro giorni lo troverete pubblicato quindi non vi preoccupate se non vi dovesse arrivare bene ok allora passo la parola alla collega cinzia che ci diciamo argomenterà il nell'arco di questa prima fase del diciamo di questo pomeriggio programma del corso che affronteremo le varie sfaccettature sulle quali andare a ragionare in termini diciamo trasversali per una corretta per un corretto dimensionamento per tutto quello che vi occorre io sono qui a rispondere alle vostre domande e poi ci alterneremo con cinzia pregoci insieme grazie allora io rinnovo il benvenuto a tutti questo secondo incontro della sessione dedicata alle unità di trattamento aria intese quindi come unità di ventilazione meccanica e terminali per lo per lo più appunto ventilconvettori per la climatizzazione invernale ed estiva ieri abbiamo appunto dedicato tutta l'attenzione al ricambio dell'aria quindi alle unità dedicate a fare ricambio e recupero di calore contestualmente oggi invece andiamo a vedere come quando ad esempio non possiamo utilizzare gli impianti radianti possiamo optare con terminali che rimangono ad una temperatura diciamo non più così favorevole come quella degli impianti radianti ma neanche così sfavorevole come quella dei termosifoni e quindi approcciamo appunto al mondo dei ventilconvettori e in questa slide diciamo vogliamo dare un quadro generale di quelle che sono le scelte che abbiamo a disposizione quando andiamo a lavorare appunto su un impianto e quindi facendo riferimento al campo di lavoro riscaldamento abbiamo sostanzialmente tre fasce di lavoro ragionando appunto in termini di temperatura che sono l'alta temperatura e quindi i corpi scaldanti ad alta temperatura sono i radiatori come tutti sappiamo che richiedono temperature di mandata più alte quindi a partire dai 50 gradi fino arrivare anche a 70 e possono lavorare anche con delta t cioè sarebbe a dire differenza tra mandata e ritorno più lunghi e quindi diciamo valori caratteristici sono 15 20 gradi delta t chiaramente che cosa accade che nel momento in cui noi andiamo a fare un intervento di riqualificazione energetica o di sostituzione del generatore è nel nostro interesse cercare di portare giù questa temperatura di mandata quindi di che può essere 70 65 60 gradi cercare di abbassare il più possibile perché ad esempio vogliamo andare a sostituire il nostro generatore con una pompa di calore e quindi magari non è possibile optare per un impianto radiante che come vediamo appunto in questa slide è in assoluto il sistema che ci permette di avere le temperature di lavoro più basse quindi ad esempio se stiamo lavorando in riscaldamento parliamo di mandate che possono essere di poco superiore 40 gradi oppure 40 fino anche arrivare a 30 gradi per applicazioni veramente a basso consumo e quindi automaticamente qualora diciamo non ci siano le condizioni per utilizzare un sistema radiante possiamo optare per un sistema a ventilconvettori che così come il sistema radiante ci permette di soddisfare contemporaneamente due fabbisogni quindi quindi quello invernale e quello estivo la differenza sostanziale che anziché andare a sfruttare appunto l'erraggiamento tipico dei pannelli radianti andiamo a sfruttare la convezione forzata tipica di questi dispositivi quindi dei ventilconvettori quindi lavoriamo sostanzialmente su sull'aria con delle temperature di mandata che si diciamo così collocano in una fascia media quindi media temperatura appunto per cui la nostra temperatura di mandata è 40 45 fino normalmente diciamo ci spingiamo massimo fino a 50 gradi chiaramente se dovessimo utilizzare una caldaia nulla ci veda di avere anche temperature più elevate però nel momento in cui noi utilizziamo un generatore in pompa di calore è interessante mantenere più basse queste temperature di mandata per avere maggiori performance della pompa di calore stesso interessante anche il fatto appunto che possiamo lavorare con lo stesso generatore anche in raffrescamento con delle temperature di mandata questa volta che vagano dai 7 8 fino a 10 gradi normalmente poi come vedremo non andiamo a temperature superiori a questi a questi valori mentre ad esempio se lavoriamo con un impianto radiante proprio grazie al fatto che abbiamo ampie temperate ampie superfici di scambio possiamo lavorare con temperature di mandata di 15 18 gradi ma è anche vero che nell'impianto radiante noi non ci occupiamo di quello che l'impianto radiante diciamo da solo non si occupa di quello che è il calore latente quindi avremo poi per l'impianto radiante appunto sempre un impianto di trattamento aria abbinato. I delta T rispetto agli impianti ai radiatori sono più limitati quindi parliamo di 5-10 gradi per i fan coil 10-3 gradi per i pannelli radianti quindi ci rendiamo conto anche che qualora dovessimo fare degli interventi di riqualificazione energetica in sostituzione ad esempio di corpi scaldanti obsoleti quindi di vecchi termosifoni dovremmo anche valutare l'idoneità della rete distribuzione perché sostanzialmente i delta T più lunghi richiedono portate più basse e quindi automaticamente anche i tubi di adozione più piccoli quindi sono delle informazioni vero a carattere generale ma bisogna tenerne conto per tutta una serie di valutazioni da fare in itinere. Allora come ambito di applicazione il fan coil diciamo il ventilconvettore nelle poi sue varie molteplici forme ci permette di soddisfare diciamo ogni tipo di esigenza quindi può essere idoneo per le abitazioni, per gli uffici, locali commerciali, attività ricettive per esempio dove abbiamo degli utilizzi di tipo discontinuo e a livello poi di intervento si pressa tanto per le ristrutturazioni quanto per le nuove costruzioni. Parliamo di una particolare idoneità anche per gli edifici a basso consumo perché sostanzialmente gli edifici a basso consumo sono anche caratterizzati da bassi fabbisogni quindi i ventilconvettori in quanto tra l'altro dei sistemi che hanno una bassissima inerzia termica possono adattarsi velocemente anche a quelle sono le variazioni di carico quindi diciamo con l'evolversi del parco di lizio e dei sistemi impiantistici i ventilconvettori stanno dimostrandosi per una serie di ragioni pratico ed economico ed energetico molto versatili e pronti a soddisfare diciamo esigenze di diverso genere. In termini di comfort abbiamo una situazione intermedia rispetto a quella che può essere la classica situazione con un termosifone che funziona alla temperatura e rispetto al radiante. Noi sappiamo che i sistemi radianti sono in assoluto sicuramente sistemi che ci garantiscono il maggiore comfort abitativo quindi una sensazione di avvolgimento in inverno poi invece il cosiddetto effetto casa di montagna in estate ma sicuramente anche Fanqual riesce a garantire diciamo dei buoni livelli di comfort perché in inverno ragionando e lavorando con temperature medie sostanzialmente l'aria non viene troppo essiccata e comunque viene sempre filtrata anche per cui automaticamente non si va a muovere pulviscolo quindi è sufficiente anche andare a prestare attenzione alla manutenzione dei ventilconvettori e dei filtri per avere anche diciamo una buona qualità dell'aria in ambiente. Inoltre viene controllata quindi l'umidità durante l'estate perché naturalmente le batterie dei ventilconvettori vanno a deumidificare e sostanzialmente poi le unità sono già dimensionate quindi Fancoil ad esempio a mobiletto da incassi sono già dimensionati per delle portate che noi andremo poi a tarare sugli ambienti. Diverso è il concetto invece nel caso degli impianti canalizzabili dove invece sarà attenzione del progettista andare a prestare attenzione a quelle che sono le velocità dell'aria in ambiente. Lo scopo è sempre quello di avere basse velocità dell'aria quindi assenza di correnti che producano appunto fastidi localizzati. Tra l'altro anche il fatto che noi abbiamo una buona movimentazione dell'aria quindi in continuo trattandosi di sistemi a convezione forzata fa sì che si riduca la stratificazione termica tipica dei sistemi ad esempio ad alta temperatura. Quindi possiamo dire che sostanzialmente a livello di diciamo così fascia di comfort ci troviamo proprio in una situazione intermedia. Anche da un punto di vista energetico abbiamo dei vantaggi nell'utilizzo di questi dispositivi perché come vi dicevo se abbiniamo il Fancoil ad un impianto in pompa di calore rispetto ai radiatori riusciamo ad ottenere maggiori COP quindi maggiori coefficienti di performance puntuali e maggiori coefficienti di performance stagionali con gli SCOP. Possiamo eventualmente integrare i nostri impianti con fonti rinnovabili quindi ad esempio con il solare termico. Non abbiamo praticamente inerzia termica. Voi sapete che con gli impianti radianti si parla molto sempre di più di sistemi a bassa inerzia termica in quanto sono sistemi che reagiscono velocemente a quelle che sono le esigenze, le variazioni di carico dell'edificio, dell'ambiente eccetera. Nel caso dei Fancoil, dei ventilconvettori sostanzialmente non abbiamo inerzia termica poiché i dispositivi lavorano sull'aria ambiente quindi sono molto indicati per ambienti ad esempio quelli ricettivi oppure le sale di unioni oppure tutti quegli ambienti dove c'è un utilizzo di tipo discontinuo e quindi automaticamente si riesce velocemente a ripristinare una situazione di comfort piuttosto che a tenere i tempi prolungati. Noi abbiamo sviluppato poi, parlando appunto di Fancoil canalizzabili, un sistema di integrazione con le unità di ventilazione meccanica controllata al fine di poter ottenere contestualmente in un intervento di nuovo impianto, di ristrutturazione, di riqualificazione di impianto, un duplice risultato cioè il ricambio dell'aria e contestualmente la climatizzazione. Quindi andremo a vedere poi quelle che sono le soluzioni che ci permettono di ottenere questo risultato. e quindi possiamo dire che l'utilizzo appunto di dei Fancoil canalizzabili in abbinamento alle unità WMC può essere sicuramente un ottimo strumento per riqualificare energeticamente un immobile impianto anche in presenza diciamo di un precedente impianto che funzionasse ad alta temperatura. Quindi con la possibilità di utilizzare dei generatori in pompa di calore senza costringere la pompa di calore stessa ad avere una temperatura dimandata molto alta come ad esempio può essere 55, 60, 65 gradi e così via dicendo. Ora andando avanti vediamo un attimino che ci sono anche dei vantaggi in chiave estetica ed architettonica. Infatti avendo a disposizione un'ampia scelta tra diversi modelli diciamo quindi a parete, a soffitto, a controsoffitto, dencast e così via dicendo, in realtà possiamo andare a rispondere a molte esigenze, alle più svariate esigenze anche da un punto di vista architettonico perché voi sapete che in un intervento di strutturazione sono numerose le problematiche che dobbiamo fronteggiare quindi semplicemente dal mancato ad esempio dal desiderio di conservare i pavimenti oppure non ho lo spaccio, non voglio vedere il fan coil e così via dicendo. Quindi in realtà la gamma rossina è ampia anche e soprattutto per consentire di risolvere e di rispondere a queste problematiche, soprattutto con la possibilità di mimetizzare poi l'impianto ad esempio nel controsoffitto oppure con i ventilconvettori da incasso e in particolare poi con i sistemi canalizzati che vanno a servire diversi ehm diversi ambienti. Allora eh come è nostra consuetudine noi facciamo un piccolo eh cappello introduttivo su quelle che sono le fasi eh operative eh che ci portano poi a lavorare eh correttamente quindi sono sostanzialmente dei piccoli tips possiamo dire assolutamente ehm diciamo la trattazione non può essere non vuole essere esaustiva perché ognuno di questi argomenti che viene poi menzionato richiede a sua volta come è poi nell'ambito della tecnica eh voi sapete tutti richiede a sua volta un'altra trattazione quindi un capitolo che può essere dalle due ore ad una giornata intera quindi essendo il nostro incontro eh un incontro che vuole darvi una panoramica andiamo a menzionare tutta una serie di argomenti che richiedono chiaramente ulteriori approfondimenti però mh quello che ci preme dire è che sostanzialmente il punto di partenza per il dimensionamento di qualsiasi tipo di terminale e quindi in questo caso anche dei ventilconvettori è comunque è sempre la conoscenza dei fabbisogni quindi il fabbisogno termico invernale ed estivo estivo inteso sempre come parte sensibile ovvero temperatura latente carico di umidità e quindi sarebbe buona prassi partire sempre da quella che è la relazione del termotecnico che indica appunto la potenza che bisogna assegnare a ciascun ambiente e contestualmente anche quella che bisogna dare al generatore per teners conto poi di tutte le perdite che ci possono essere nel sistema e sarebbe cosa buona avere queste informazioni anche in fase di preventivazione quindi fornire queste informazioni alla gente o che la gente si procuri queste informazioni in maniera da centrare il più possibile anche l'offerta economica una volta che sono noti questi questi fabbisogni è possibile andare a dimensionare poi tutti i corpi emittenti quindi i ventilconvettori eventualmente la rete auralica per gli impianti canalizzati la rete di distribuzione intesa come idraulica il generatore e tutte le altre componenti della centrale termica quindi vedete che è un processo in cascata che però comincia sempre dalla conoscenza dei fabbisogni quando parliamo di fabbisogni invernali quindi sostanzialmente il nostro terminale non sono il ventilconvettore così come poi anche il generatore che lo alimenta deve sopperire a tutte le dispersioni termiche dell'edificio per dispersioni termiche esattamente cosa intendiamo intendiamo la somma di due contributi principali che sono sostanzialmente le dispersioni che si producono per ventilazione e le dispersioni che si producono attraverso tutte le superfici disperdenti dell'involucro per superfici disperdenti dell'involucro intendiamo sia quelle rivolte esattamente verso l'esterno sia quelle rivolte verso ambienti non riscaldati quindi voi vi rendete conto come un tecnico che faccia un'analisi attraverso il software possa avere un risultato invece un sopralluogo e un esame solo visivo possa portare ad un risultato di tipo chiaramente approssimativo e di tipo diverso facendo un esempio questo è un banale calcolo che è possibile svolgere appunto anche manualmente prendiamo un ambiente con una stanza di 60 metri cubi e le andiamo ad assegnare un ricambio di 30 metri cubi ora per chi di voi ha seguito il corso sulla WMC si ricorderà che il parametro di riferimento per il ricambio aria è 0,5 volumi ora ovvero metà del volume del nostro ambiente quindi se consideriamo che in ambiente abbiamo 20 gradi mentre fuori ne abbiamo due abbiamo un delta sostanzialmente di 18 gradi e quindi andiamo appunto a moltiplicare questi 18 gradi di delta per la portata che è il nostro 30 metri cubi ora che è appunto il nostro non so se vedete tra l'altro il puntatore quindi moltiplichiamo il delta 18 che è la temperatura ambiente meno la temperatura esterna per 30 che è la nostra portata di ricambio aria per 0,34 che è il nostro coefficiente il calore specifico dell'aria e ci rendiamo conto che già solo in questo ambiente semplicemente appunto per ventilazione abbiamo disperso 200 watt quindi è un parametro imprescindibile quello della conoscenza delle dispersioni analogamente invece se abbiamo una parete che divide un ambiente interno a 20 gradi da un ambiente esterno a 2 gradi si produce appunto per differenza di temperatura una dispersione che è direttamente proporzionale possiamo dire a quella che la capacità di trasmissione del calore della parete quindi più è alto il valore di trasmittanza perché magari l'immobile è obsoleto o non riqualificato più si hanno dispersioni più l'immobile è stato isolato più le dispersioni si abbassano e quindi in questo caso abbiamo appunto 18 gradi che è sempre il solito delta t lo andiamo a moltiplicare per la superficie della parete per il coefficiente di scambio relativo alla sua trasmittanza e otteniamo che questo piccolo pezzo del nostro involucro ci ha prodotto anch'esso una dispersione se andiamo a sommare tutti i contributi alle dispersioni per ventilazione verranno fuori i nostri fabbisogni abbiamo anche diciamo esemplificato in questa tabella delle situazioni tipiche quindi ad esempio abbiamo strutture con una trasmittanza di tipo diverso decrescente che possiamo andare incrociare con dei valori di trasmittanza anche per i serramenti in corrispondenza di diverse temperature minimo di progetto voi sapete che comunque ad ogni località della nostra penisola corrisponde una temperatura minima che viene presa come riferimento per il calcolo del fabbisogno e quindi una tabella di questo genere ad esempio può essere utile per incrociare quella che è la qualità dell'involucro con la temperatura della località e tirare fuori un valore di riferimento in termini di watt a metro quadro inteso come fa bisogno quindi ad esempio se ci mettiamo in una situazione con una parete che abbia una trasmittanza media diciamo quindi non ottimo ma neanche pessima e gli infissi i serramenti idem vediamo che per una località che abbia due gradi come può essere per esempio latina abbiamo una dispersione di circa 60 watt a metro quadro quindi questi sono chiaramente degli strumenti semplificati che possono essere utilizzati come una sorta di abaco per chi non ha la possibilità di attingere a quello che abbiamo già definito come la fonte di riferimento cioè sarebbe la relazione del tecnico tra l'altro un'altra questione con la quale ci troviamo diciamo quasi sempre a confrontarci è il fatto che molto spesso il richiedente è quindi la signora Maria il signor Mario chi il privato il cittadino ha a sua disposizione la classe energetica dell'immobile un certificato di cui poi bisogna pure andare a vedere un pochino l'attendibilità perché si è stato fatto in maniera rapida veloce se invece è stato fatto un sopralluogo e quindi effettivamente è stato diciamo si è più fedele alla realtà insomma anche qui ci sono tanti discorsi da fare comunque il fabb la classe energetica è indicativa di quello che fa bisogno energetico del dell'edificio che è diverso al fabbisogno termico infatti si cambia anche unità di misura cioè si passa il kilowattora a meno quadro anziché il kilowatt o i watt quindi attenzione a questo piccolo misunderstanding e vediamo che comunque ci dà un'informazione su quella che è la qualità energetica dell'immobile ma non abbiamo esattamente delle informazioni dettagliate circa quella che può essere la potenza richiesta dal generatore anche qui abbiamo cercato di tirare fuori delle tabelle che possono essere di riferimento per associare dei fabbisogni medi alle classi però ripeto anche qui ci troviamo in una nell'ambito di una semplificazione quindi ad esempio se stiamo parlando di una classe c c'è diciamo intorno a 50 60 watt a metro quadro e andiamo a scendere al di sotto di questa classe mentre le classi più basse quindi la classe f e la classe g hanno dei fabbisogni molto elevati quindi saranno delle abitazioni molto energivore. La situazione poi cambia passando alla situazione estiva perché sostanzialmente non ci dobbiamo più occupare di quelle che sono le dispersioni diciamo verso l'esterno ma dobbiamo occuparci invece di quello che rientra dall'esterno quindi sia in termini di raggiamento quindi proveniente appunto dal sole che investe superfici opache e trasparenti ma anche come ingresso di aria calda e umida. Per chi di voi ha seguito il modulo di ieri ci siamo soffermati abbastanza sul dire che durante l'estate l'ingresso di aria dall'esterno porta con sé oltre che la temperatura anche un apporto importante di umidità che quindi dovremmo andare a trattare e poi ci sono gli apporti interni che sono quelli derivanti dalla presenza delle persone, le apparecchiature che vengono impiegate, l'illuminazione, la produzione di umidità anche delle persone per respirazione, per attività fisica, per cotture, insomma tutte le attività che si possono svolgere all'interno dell'ambiente e quindi già ieri ci siamo abbondantemente soffermati su questo e su questo abbiamo anche parlato di quella che è la difficoltà nel quantificare ad esempio la produzione di vapore. Quindi in sostanza parlando di climatizzazione estiva noi dobbiamo prendere sempre in considerazione i due carichi, cioè sarebbe a dire carico sensibile dovuto appunto alla temperatura, carico latente dovuto all'umidità. Normalmente il risultato diciamo c'è il parametro di riferimento è per quanto riguarda appunto la temperatura è 26 gradi e ci manteniamo intorno a 55-60% di umidità. Nel caso appunto di un impianto a fan coil sarà sempre proprio l'impianto a fan coil a trattare la parte latente, a differenza di quanto avviene invece per gli impianti radianti. Allora parlando di quella che è poi la configurazione degli impianti vediamo che innanzitutto dobbiamo cercare di valutare qual è la tipologia di intervento che andiamo a fare, cioè una nuova installazione, una strutturazione recuperare quindi come abbiamo già detto le informazioni su fabbisogno termico e frigorifero e scegliere il tipo di ventilconvettore in base alle disponibilità spaziali che abbiamo, quindi se possiamo lavorare parete, dobbiamo lavorare soffitto, dobbiamo lavorare con sistema ad incasso e quindi cerchiamo di effettuare le predisposizioni tecniche necessarie, quindi se andiamo a lavorare ad esempio con un collettore e più ventilconvettori, troveremo la posizione del collettore, se abbiamo i ventilconvettori a parete cerchiamo di posizionarli sulle pareti esterne per avere diciamo una condizione di maggiore comfort, mentre se dobbiamo lavorare con dei ventilconvettori canalizzabili dovremmo individuare un vano tecnico centrale, normalmente diventano sostanzialmente utili tutti i corridoi e i disimpegni che vengono contro soffrittati e permettono appunto di alloggiare le unità e poi andiamo a pensare eventualmente anche a come gestire in termini di regolazione, quindi se fare una regolazione stanza per stanza oppure ad esempio a zone e così via dicendo, questo ci viene utile anche per imbassire poi l'impianto, quindi questo è tutto il ragionamento pregresso che bisogna fare per arrivare a concepire l'impianto stesso. Per quanto riguarda la selezione del ventilconvettore diamo alcune linee guida, quindi il primo dato di partenza è sempre la consultazione delle tabelle, quindi possibilmente non i dati da listino ma le schede tecniche che noi abbiamo a disposizione anche sul nostro sito, quindi bisogna fare poi riferimento a quelle che sono le temperature di esercizio, quindi di mandata che derivano dalla generatore che abbiamo scelto, se pompa di calore e se caldaia, andare a selezionare appunto i fabbisogni caldo e freddo e valutare la portata dell'aria che il ventilconvettore tratta. Non ultimo anche il livello sonoro perché ad esempio ci sono delle applicazioni in cui magari abbiamo bisogno di particolare silenziosità, quindi dobbiamo andare a guardare anche le prestazioni dei ventilconvettori in termini acustici. In linea di massima sintetizzando diciamo così un criterio che può semplificare il diciamo così le linee guida per il dimensionamento di questi ventilconvettori possiamo fare riferimento sia per non avere soprattutto per non avere appunto rumorosità in ambiente a una velocità di dimensionamento cioè di rotazione dei ventilconvettori che sia una velocità media. Voi nelle schede tecniche trovate una velocità minima, una media, una massima, in realtà poi ormai per tutti i ventilconvettori abbiamo una regolazione di tipo continuo, quindi possiamo metterci ad un livello medio oppure medio basso, medio alto, comunque la linea guida è quella di fare riferimento appunto ad un livello medio e quindi tenerne conto, far sì che le prestazioni coincidano con questo. Cercare di guardare che l'aria trattata dal ventilconvettore all'incirca sia intorno ai 4 volumi ora, poi a seconda che facciamo riscaldamento, solo il scaldamento oppure anche il condizionamento può essere anche superiore e lavorare con delle temperature di mandata in riscaldamento non troppo basse perché altrimenti potremmo avere fastidio, diciamo così, con la percezione di aria che viene movimentata a temperatura troppo bassa. La stessa cosa poi in estate, nel senso che una temperatura inferiore ai 14 gradi può risultare fastidiosa come temperatura di immissione in ambiente. Allora, qui avete proprio un esempio di due tabelle che riguardano appunto dei ventilconvettori, in questo caso sono dei saving e su queste tabelle vi ho evidenziato proprio sempre le velocità, le prestazioni alle velocità medie. Quindi vedete che trovate HML che sarebbe high, medium e low come velocità appunto del nostro ventilconvettore e quello che andiamo a fare è sostanzialmente andare ad intersecare quelle che sono le prestazioni in corrispondenza della temperatura di mandata desiderata, quindi supponiamo 55 gradi di mandata con delta T5 alla velocità media e andiamo a vedere quelle che sono le potenze in riscaldamento, quindi con ambiente a 20 gradi, che ci vengono fuori e facciamo sì che queste potenze vadano a coincidere con quelle dell'ambiente che dobbiamo trattare. D'accordo? Quindi poi la temperatura di mandata può essere 55 piuttosto che 50 piuttosto che 45, chiaramente nel momento in cui lavoriamo con una pompa di calore sarà meglio avere appunto 45 piuttosto che 50 gradi perché significa avere all'incirca un 10 per cento di guadagno in termini di COP. La stessa cosa se parliamo qualora dovessimo abbinare ad una caldaia abbiamo le prestazioni anche riferimento a temperature maggiori. Che cosa succede? Lato fan coil rimaniamo sempre facendo riferimento ad una velocità media, sempre per un discorso di rumorosità. Se parliamo invece del raffrescamento, allora che cosa succede? Che nel momento in cui, e qui forse sto rispondendo ad una domanda che viene fatta proprio in questo momento, cioè il ventilatore può anche di umidificare, il ventilconvettore può anche di umidificare. Allora i ventilconvettori sono sostanzialmente, li possiamo semplificare proprio nella maniera più estrema come degli scatolotti in cui all'interno abbiamo un ventilatore e una batteria. Quindi diciamo così stiamo parlando di un fenomeno di convezione forzata, no? E quando la batteria viene alimentata da acqua ad una temperatura di 7, 8, 10 gradi, inevitabilmente che cosa accade? Che l'aria ambiente che si trova ad una certa temperatura e anche ad una come dire, un certo contenuto di umidità venendo in contatto con la batteria sicuramente raggiunge diciamo quella che è la temperatura di ruggiata e quindi rilascia tutta l'umidità in eccesso. Anche questo è un discorso che abbiamo visto ieri. Quindi naturalmente il ventilconvettore va a deumidificare e chiaramente qui che cosa succede? Più è bassa la temperatura di alimentazione del ventilconvettore, quindi se stiamo parlando di 7 gradi abbiamo una deumidificazione ottimale, ce l'abbiamo anche a 8 ma anche a 10 perché che cosa succede? Questi terminali diciamo per poter lavorare anche in abbinamento alle pompe di calore sono stati da noi selezionati secondo un criterio diciamo così di sovradimensionamento. Pensate per sempre per chi ha visto, ha seguito il modulo di ieri che ad esempio le batterie per la deumidifica della ventilazione meccanica sono dimensionate generosamente per poter lavorare a 10 gradi. Questo perché? Perché noi partiamo sempre dal presupposto che vogliamo far lavorare bene le nostre pompe di calore. D'accordo? Quindi la cosa a cui bisogna prestare attenzione è che nelle prestazioni in raffreddamento avete sempre il riferimento all'aria ambiente ad un certo contenuto di umidità e vi vengono espresse due potenze una PC e una PS che sarebbe a dire una potenza P cooling che è totale e una potenza sensibile che invece è quella che produce sostanzialmente l'abbassamento della temperatura. La differenza tra queste due potenze è quella latente. D'accordo? Quindi questo significa che è il contenuto di umidità che vado a portare via. Chiaramente che cosa succede? Più io se parto da un'umidità in ambiente che non è il 50% ma è il 55, il 60, il 65, allora la deumidifica, la capacità di deumidifica a parità di temperatura mi va ad aumentare perché sostanzialmente l'aria mi rilascia più umidità a contatto con la batteria e quindi automaticamente c'è sempre da prevedere lo scarico condensa, ci sono le valvole, le bacine di raccolta condensa per le valvole e così via dicendo. Quindi in questo caso nel dimensionale di ventilconvettori è trovare un giusto compromesso sulla temperatura di mandata cioè magari non troppo bassa per far lavorare bene le pompe di calore ma neanche troppo alta per non inficiare la capacità di deumidifica. Sempre la velocità media ed infine assicurarsi sempre che la potenza che si va a scegliere, quindi diciamo dare priorità alla potenza sensibile che vada a coincidere con la potenza sensibile con il fabbisogno che si è calcolato in questo famoso ed eventuale fabbisogno termico, d'accordo? Quindi questo può anche voler significare un sovradimensionamento del ventilconvettore ma bisogna assicurarsi che la potenza sensibile sia corretta per avere il comfort anche in termini di temperatura. Per tutti i ventilconvettori sulle schede tecniche sono riportate le portate d'acqua e le perdite di carico che si producono anche alle batterie, eventualmente alle valvole e così via dicendo. Questi sono dei valori che vanno tenuti in forte considerazione per il rimensionamento di tutto quello che c'è poi a monte del nostro del nostro impianto quindi per tener conto poi delle portate complessive del dell'impianto stesso perché c'è anche la parte idraulica che rientra nel dimensionamento. Ad esempio in questa slide noi abbiamo riportato diciamo così un esempio banale di quella che può essere una portata complessiva di circa tre metri cubi che mi va ad intersecare diciamo così un diametro 35 32 e quindi mi produce una perdita di carico in millimetri di colonna d'acqua di quasi 30 diciamo quindi 29. Che cosa faccio? Se io considero una linea di adduzione quindi una montante di circa 10 metri quindi 5 di mandato e 5 di ritorno e vado a moltiplicare le perdite di carico che ho ottenuto dalla consultazione del diagramma anche maggiorandole di un pochino quindi del 25 per cento ottengo che ho perso circa 0,4 metri di colonna d'acqua ma se invece le montanti sono molto più lunghe chiaramente le perdite di carico saranno di gran lunga maggiori. Ora chiaramente voi potete servire di diagrammi come questo, vi potete servire di tabelle esemplificative come queste dove sostanzialmente in funzione della della portata, vi vengono dati dei range quindi di diametro e velocità consigliata e di perdite di carico quindi automaticamente, vi potete servire di della letteratura tecnica, dei software insomma qualsiasi strumento vogliate, la cosa importante è prestare attenzione a questo aspetto perché sostanzialmente incide anche questo sulla parte energetica in termini di dimensionamento dei circolatori e quant'altro. In queste slide vi abbiamo riportato un esempio molto semplificato di come può essere possibile anche dimensionare a partire diciamo calcolare a partire da una potenza quindi i 16 kilowatt, 16 mila watt la portata in corrispondenza di un salto termico quindi ad esempio in corrispondenza del salto termico 5 vedete che moltiplico questa potenza per 0,86 che è semplicemente un fattore di conversione, lo divido per 5 che è il nostro salto termico e mi viene fuori che per questa potenza delta T5 ho bisogno di 2750 litri ora. Se invece io avessi il delta T10 magari lavoro delta T5 al lato del generatore come vedete in questa slide mentre lavoro delta T10 sul lato del mio diciamo così terminale quindi sul secondario in questo caso la portata si dimezza quindi c'è tutta una serie di valutazioni che bisogna fare poi per il corretto dimensionamento dell'impianto quindi dei gruppi di spinta della parte idronica quindi dei tubi e così via dicendo. Entriamo invece adesso ad analizzare quindi prima ci dedichiamo a una tipologia di ventilconvettori che sono i ventilconvettori canalizzabili e cerchiamo di vedere quello che è il dettaglio cioè scusate il ventaglio delle possibilità che questi sistemi ci offrono poi Emiliano ci porterà invece a fare una carrellata su che sono le altre soluzioni possibili quindi ventilconvettori da parete da incasso e così via dicendo. Allora i ventilconvettori canalizzabili hanno stanno riscuotendo diciamo un discreto interesse soprattutto per le possibilità che ci permettono di avere in termini di ristrutturazione di retrofit di qualificazione energetica. Quindi partiamo dal vedere questi ventilconvettori quindi gli Iris LHP tutti i ventilconvettori hanno nella loro nomenclatura Iris cioè sono chiamati Iris poi con varie sigle per indicare diciamo la tipologia costruttiva. Allora gli Iris LHP sono dei ventilconvettori da controsoffitto di piccola taglia possiamo dire di taglia medio piccola. Abbiamo tre taglie l'Iris LHP 22, il 42, il 62 quindi come portate nominali portano 400 a 400 a 720 metri cubi ora mentre come potenze andiamo dai 2 ai quasi 5 kilowatt in freddo dai 2,7 ai 5 kilowatt e mezzo in caldo. La prerogativa di questi ventilconvettori è che sostanzialmente hanno uno spessore molto ridotto. Li abbiamo equipaggiati con ventilatori centrifughi brushless con prevalenza maggiorata quindi questo ci permette di effettuare una regolazione del ventilconvettore ad hoc di avere silenziosità di funzionamento maggiore risparmio energetico grazie al ridotto assorbimento e anche una buona prevalenza da sfruttare nel momento in cui noi vogliamo fare delle piccole canalizzazioni. La struttura è una compatta e robusta, sono dotati di filtri che sono anch'essi rimovibili e lavabili di classe M1 e vediamo che possiamo scaricare sempre dal nostro sito la documentazione tecnica che porta una serie di tabelle quindi più generali con tutte le prestazioni e poi porta come sempre al suo interno anche tutta una serie di fattori correttivi. Ad esempio se noi andiamo a canalizzare l'unità e quindi dobbiamo tener conto di questa canalizzazione perché andiamo a ridurre la portata rispetto alla condizione di lavoro a bocca libera dovremo applicare dei fattori correttivi che appunto sono riportati all'interno della scheda tecnica e quindi in funzione di quella che è la riduzione che applichiamo alla portata andremo a conoscere la potenza frigorifera, la potenza sensibile, la potenza termica che effettivamente la macchina è poi capace di erogare. Quindi qui diciamo è il lavoro del progettista che deve andarsi a procurare appunto questi dati all'interno della documentazione tecnica e poi fare le sue valutazioni. Sempre all'interno delle schede tecniche sono presenti i diagrammi di prevalenza dei ventilatori quindi ad esempio questo è un diagramma di un LHP 42 quindi la taglia intermedia. Vi vengono diagrammate le 10 velocità perché come vi ho già detto abbiamo una possibilità di regolazione praticamente continua e normalmente noi che cosa facciamo? Ci andiamo a collocare come vi dicevo già in una situazione di lavoro media quindi di media velocità e vedete che in questa situazione possiamo contare su una prevalenza che si aggira intorno ai 40 pascal che noi sfrutteremo chiaramente per la ripresa, il plenum distribuzione, la griglia di mandata o i canali a seconda di quella che è la configurazione che andiamo a realizzare. E quindi parlando di configurazioni vediamo che appunto abbiamo a disposizione una prima configurazione più semplificata dove abbiamo appunto la ripresa in basso e la mandata direttamente frontale quindi con una griglia, d'accordo? Quindi ci sono i plenum di raccordo che sono già automaticamente accessori per le unità e li trovate sempre sul nostro catalogo e poi abbiamo griglia di ripresa, griglia frontale di mandata già tutte dimensionate per le taglie quindi non ci sono problemi di andare a scegliere la sezione di passaggio delle griglie, non ci sono aspetti di questo genere da valutare. Ok? E questa per esempio può essere una situazione tipica di un piccola stanza albergo oppure un piccolo locale di tipo commerciale, insomma le applicazioni sono svariate. L'altra soluzione invece è possibile è quella in cui vado a fare la ripresa sempre dal basso sfruttando il plenum dell'unità ma vado a fare una diffusione di tipo canalizzato, quindi una distribuzione di tipo canalizzato sfruttando un plenum frontale con attacchi e connessioni FI 125, sfruttando quindi quello che è il sistema di distribuzione dell'Illiris pack che adesso comunque andremo a vedere. Altri accessori sono poi il comando remoto che tra l'altro sempre più avanti poi verrà approfondito, la valvola 3D e la bacinella per la valvola e si può anche mettere in serie un sanificatore per l'aria dato che comunque voi sapete tutti il periodo da cui usciamo ha portato molta attenzione anche su quella che è la qualità dell'aria trattata. Venendo all'opzione appunto di canalizzazione dell'unità come andiamo a lavorare? Abbiamo già detto che non abbiamo diciamo a disposizione prevalenze eccessive, quindi andiamo a lavorare con un plenum frontale sviluppato ad hoc sempre da noi che è un plenum in PVC con delle uscite frontali tutti di uguale diametro, quindi sviluppato per un sistema a collettore sostanzialmente dove abbiamo a disposizione tre uscite frontali per la taglia più piccola, quindi per l'Illiris LHP22, quattro uscite frontali per il 42, cinque per il 62, le uscite laterali diciamo sono opzionali e quindi già abbiamo un numero importante di uscite frontali, quelle laterali sono intese più che altro per poter sfruttare, qualora ci troviamo in uno spazio distretto e non vogliamo fare una curva andiamo a sfruttare l'uscita laterale. Che cosa accade? Che andiamo quindi a sfruttare queste uscite e andiamo a distribuire l'aria quindi non più in un unico ambiente ma su più ambienti, d'accordo? Sfruttando proprio un sistema a collettore e in questo modo noi possiamo riuscire a fare o un impianto di climatizzazione a zone, quindi ad esempio possiamo trattare sostanzialmente come dire la zona notte, la zona giorno oppure due stanzi insieme oppure possiamo andare a realizzare anche l'impianto di cui abbiamo fatto cenno all'inizio, cioè quindi l'impianto 2MC Clima, dove le unità LHP si vanno a combinare appunto con le unità di ventilazione meccanica controllata che sono le unità Altaire. Quindi vedete in questa prima illustrazione che poi vedremo anche più in grandità successivamente proprio un esempio tipico di impianti in cui abbiamo centralmente l'unità LHP, trattandosi di una piccola abitazione può essere tranquillamente nell'HP 62, derivazioni tutte fatte con il 125, quindi con un condotto di un unico diametro in una lunghezza molto limitata, quindi parliamo di circa 3 metri e contestualmente abbiamo l'impianto di ventilazione meccanica che va a fare separatamente il suo lavoro. E quindi vediamo che il vantaggio appunto è quello di utilizzare solo ed esclusivamente anche dei terminali misti, su cui comunque ritorniamo a breve, che ci permettono di integrare le due funzioni, quindi la funzione clima e la funzione WMC. Quindi sostanzialmente anche l'IRIS LHP si presta per un'integrazione di questo tipo. L'altro ventilconvettore canalizzabile che si presta invece per questo tipo di integrazione è l'IRIS CN, quindi vediamo che qui saliamo di taglia, quindi parliamo di una ventilante che ha anche una prevalenza maggiore, portate maggiori e potenze maggiori, quindi parliamo di RIS CN 600, 800, 1200 e 1600, portate d'aria nominali, quindi a bocca libera, massima velocità che vanno dai 1400 ai 4200 metri cubi ora, quindi possiamo dire che le prime due taglie, la CN 600 e l'800 si prestano anche applicazioni residenziali, mentre sulla 1200 e la 1600 andiamo su applicazioni di tipo diverso, specialmente nel settore interziario, possiamo dire così. Le potenze infatti seguono e quindi andiamo dai 7 kW e 6 nominali ai 27 quasi per la 1600 e così via anche le potenze termiche, d'accordo? Quindi qui possiamo distinguere proprio due ambiti di applicazione, uno più prettamente residenziale per la 600 e l'800, mentre le altre due parliamo di applicazioni anche di tipo diverso, quindi ambito diverso. La caratteristica peculiare di questo sistema è che abbiamo a disposizione uno spessore molto ridotto, quindi solo 275 mm, quindi 27 cm e mezzo, che permette l'installazione del contro soffitto ed è un aspetto da non sottovalutare proprio perché appunto c'è sempre da combattere con gli spazi tecnici. Abbiamo anche qui ventilatori brushless a prevalenza maggiorata, quindi con possibilità di regolare in maniera continua la velocità, una struttura compatta sia per la ventilante che per i suoi accessori, il filtro di classe M5 facilmente removibile dal retro ed una batteria a quattro ranghi dimensionata quindi generosamente sia per, che ci permette di lavorare bene sia con il raffrescamento che con la diciamo capacità di deumidificazione. Anche qui nella documentazione tecnica trovate tutte le tabelle delle performance, io in questo caso vi ho riportato solo diciamo quelle del 600 e dell'800, quindi tanto in riscaldamento quanto in raffreddamento e vale esattamente quello che abbiamo detto in precedenza, quindi soffermarsi sul leggere i dati alla velocità media. Abbiamo anche qui le curve delle prestazioni erauliche e di assorbimento e chiaramente le prestazioni essendo riportate a bocca libera devono essere corrette nel momento in cui vado a fare la canalizzazione esattamente come abbiamo detto per il modello precedente, quindi adottare dei fattori correttivi. Mediamente diciamo per come andiamo a lavorare noi, possiamo dire che la potenza frigo e la potenza termica devono essere degustate di un 20%, d'accordo? Perché comunque non andiamo mai a lavorare con grosse perdite di carico. Allora, molto importante per l'utilizzo, per l'impiego di questo sistema, quindi di questa ventilante in ambito residenziale, è l'utilizzo di questo plenum frontale, per cui praticamente quando parliamo dell'IRIS CN e dell'IRIS CN600 e 800 parliamo sostanzialmente di due ventilanti che vanno a far parte di un sistema a pacchetto, che infatti viene chiamato il SPAC, che quindi praticamente si va proprio ad inserire in quel segmento commerciale e di applicazione di tutti quei sistemi canalizzati, di climatizzazione canalizzati, che vengono forniti appunto in ambiente residenziale per svolgere la funzione di climatizzazione estiva o riscaldamento e climatizzazione e così via dicendo, che molto spesso nascevano come sistemi fai da te per l'installatore. Invece in questo caso che cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto pensare ad un sistema che fosse il più standardizzato possibile e che desse la possibilità al insomma al tecnico che facesse l'installazione oltre che al progettista di poter lavorare con diciamo poche variabili. Quindi che cosa succede? Abbiamo un plenum che ha otto uscite frontali tutte FI 125, due laterali FI 125 anch'esse da sfruttare qualora appunto non si voglia fare una curva U per tornare indietro. Quattro di queste uscite sono già dotate di tappo, vi faccio vedere il disegno tecnico, il dettaglio tecnico quindi vedete che quattro di queste uscite, quelle in grigio, sono già dotate di tappo, mentre per le altre uscite abbiamo a disposizione dei diaframmi di taratura concentrici, d'accordo? Che vanno comodamente inserite all'interno dei nostri boccagli. La struttura molto importante, questo aspetto, la struttura in PwC 4 mm con isolamento esterno in P espanso da 3 mm e isolamento fonoassorbente anch'esso 10 mm, il che significa sostanzialmente che già solo con questo plenum andiamo ad abbattere, coniugando la selezione del funzionamento alla media velocità, andiamo ad abbattere enormemente quelle che possono essere le emissioni sonore. Le uscite che dobbiamo andare a sfruttare in qualche modo sono obbligate come numero minimo, questo significa che non può essere ridotto ma può essere eventualmente aumentato, quindi per un Iris CN di taglia 600 dovremo sfruttare almeno 6 connessioni, mentre per un Iris CN di taglia 800 almeno 7 connessioni. Questo è il motivo per cui il plenum nasce già dotato di quattro tappi diciamo, ok? Mentre vanno ordinati separatamente i regolatori di portata in base alla configurazione che si va a realizzare. Mentre se facciamo un salto indietro rispetto alle altre due taglie, quindi l'Illis CN 1200 e 1600, scusate qui ci deve essere 1600, abbiamo dei plenum con 5 e 6 uscite con diametro scalettato diciamo perché in questo caso si dovranno utilizzare dei diametri più importanti ed eventualmente fare delle ramificazioni. Poi per tutti i ventilconvettori sono abbinate chiaramente le valvole 3B ed il comando remoto che mi permette di gestire poi come un normale termostat ora l'altro il funzionamento della ventilante, la gestione delle valvole e così via dicendo. Ritornando quindi sul nostro plenum per Iris CN e Iris 600 e 800, sostanzialmente vedete che il sistema che viene fuori con l'utilizzo di questo plenum è appunto un sistema come vi dicevo a pacchetto quindi l'Illis Pack per cui abbiamo una ripresa sotto la macchina, sotto la ventilante con un plenum dedicato e una mandata frontale che sfruttando questo sistema a collettore risulta essere automaticamente già bilanciata così come l'installazione risulta essere molto semplificata. Questo è ancora un dettaglio di come possiamo realizzare appunto il nostro impianto quindi ventilante, plenum frontale, plenum di ripresa e eventualmente possiamo collocare la ripresa anziché sotto la macchina anche ad una distanza diciamo breve. Tra l'altro molto spesso siccome questo sistema viene impiegato per fare il riscaldamento noi suggeriamo quando è possibile di portare in basso la ripresa quindi ad esempio a parete basse in maniera da ridurre anche eventuali fenomeni stratificazioni tipici del impianto di riscaldamento all'aria. Quindi la griglia anche questa è già predimensionata, è una griglia di ripresa da controsoffitto 800x200 che viene fissata o direttamente diciamo sul controsoffitto oppure viene fissata al plenum che ha la caratteristica di essere un plenum telescopico quindi regolabile in altezza o eventualmente possiamo sfruttare tre connessioni posteriori per collegarci tramite dei condotti flessibili ad un plenum di ripresa messo a distanza. Quindi sostanzialmente abbiamo a disposizione una serie di soluzioni per ottimizzare poi anche la nostra installazione. I condotti sono dei condotti semirigidi tipici delle applicazioni e condizionamento con spessore di 4 mm e diametro F127. Per cui le portate con le quali andiamo a lavorare su questi condotti sono oscillanti, variabili a seconda di come configuriamo il sistema tra 100 e 160 m3 ora quindi come vedete anche alla massima portata abbiamo una velocità di transito ridotta cioè 3,5 ms normalmente tra l'altro non è neanche un valore al quale arriviamo mai grazie a questo numero elevato di uscite quindi assolutamente partendo dal plenum fino ad arrivare ai condotti e alle bocchette rimaniamo in un ambito diciamo così di dimensionamento a bassa velocità e quindi bassa rumorosità. In cascata poi che cosa abbiamo? Che anche tutti i terminali sono stati già dimensionati per essere collegati a questi condotti F125 e quindi abbiamo bocchette a parete ad alette orientabili oppure terminali a parete soffitto a feritoia e qui abbiamo come adattatori come plenum dei plenum in PwC isolati con una, due, tre connessioni F125 a seconda di quanti condotti ci dobbiamo andare a collegare. Quindi questo è ad esempio una configurazione su un appartamento di 110 metri quadri dove andiamo a fare appunto la climatizzazione estiva e quindi ci saranno ambienti a cui associamo tre condotti, ambienti invece a cui ne associamo due oppure ambienti più piccoli a cui ne associamo solamente uno. Quindi poi quello che andiamo a prestare attenzione è nuovamente il dimensionamento della ventilante, il calcolo della portata per far sì che andiamo a trattare come abbiamo già detto un numero sufficiente di volumi ora e così via dicendo. Quindi un impianto molto semplificato che chiaramente si va a collocare in questo segmento commerciale cioè sarebbe a dire nella categoria degli impianti canalizzati dove però anziché lasciare margine quindi di iniziativa viene standardizzato tutto per avere anche diciamo così efficacia il funzionamento. Questo è un altro esempio di layout dove sostanzialmente vengono date tutta una serie di indicazioni ecco anche a chi fa poi la posa e nel dettaglio vediamo che questo è un impianto dove abbiamo appunto le mandate tutte in alto mentre la ripresa viene messa in basso perché è un impianto che fa riscaldamento e quindi sostanzialmente questa è una lista materiale tipo con Iris CN 800 e vediamo che abbiamo un prezzo complessivo di questo impianto di listino che è di circa 5.000 euro. Quindi è un impianto che ben si va ad integrare diciamo anche a livello economico sul mercato. Un'altra soluzione possibile che possiamo adottare con questi sistemi canalizzati è quella di affidare loro solo il raffrescamento mentre il riscaldamento viene fatto da un impianto radiante quindi piuttosto che fare appunto riscaldamento radiante, raffrescamento radiante e di umidificazione andiamo a semplificare ad avere l'impianto radiante verso lo caldo, la ventilante invece per fare il clima estivo. I nostri impianti quindi in pompa di calore vengono automaticamente strutturati poi per lavorare in maniera alternata quindi sulla l'impianto radiante o sull'impianto a fan coil. Quindi anche tutta la centrale termica viene progettata per fare questo switch ed è una soluzione che sta trovando molto riscontro ad esempio anche in ambito di condomini con gli appartamenti realizzati in serie. Un'altra situazione tipica dove questo può avere riscontro cerco di andare veloce seppure devo insomma toccare un po' tutti gli argomenti è quella dell'impianto dove abbiamo dei radiatori che vengono alimentati ad alta temperatura e quindi sostanzialmente che cosa succede? Abbiamo dei tubi di piccolo diametro non è facile fare lo switch dai radiatori ai venti sconvettori d'accordo? Quindi che cosa possiamo andare a fare in questo caso? Possiamo mantenere i corpi scaldanti presenti possiamo sostituire il generatore di calore ad esempio con una pompa di calore e andiamo ad integrare il nostro sistema con un mini SPAC quindi con il sistema appunto CN più distribuzione che praticamente andrà a fare la l'integrazione quindi alla riscaldamento e poi farà durante l'estate la climatizzazione estiva quindi da un certo punto di vista abbiamo ottenuto un impianto non invasivo che funziona in parallelo durante l'inverno e invece in maniera esclusiva durante l'estate la temperatura di lavoro quindi viene ridotta a 45 gradi non deve essere più mantenuta una temperatura molto alta e riusciamo ad ottenere un diciamo così un abbinamento efficace alla nostra pompa di calore. D'altro canto con l'abbassamento della temperatura di mandata automaticamente succede che chiaramente i termosifoni hanno una resa più bassa e quindi dovremo necessariamente integrare quella potenza mancante con il nostro ventriconvettore anche durante l'inverno che può essere il virus CN 800 alla minima velocità o il 600 ad esempio alla velocità media. Questo lo andiamo sempre a leggere dalla consultazione appunto delle schede tecniche. Da un punto di vista della configurazione impiantistica abbiamo sempre un circuito con doppia pompa, il funzionamento invernale dei due impianti in parallelo come vi dicevo, mentre in estivo solo i SCN, quindi solo i SPAC, il ventriconvettore e i termosifoni vengono gestiti separatamente dalla propria regolazione facendo riferimento sempre alla temperatura diciamo set, quindi i 20 gradi interni. E da un punto di vista quindi della centrale, qui stiamo parlando chiaramente di un condominio, abbiamo la alimentazione separata dei due circuiti quindi circuito termosifoni, circuito ventriconvettori serviti appunto dalle pompe di calore e poi in estate avremo solo i ventriconvettori. D'accordo? Poi separatamente c'è tutto il discorso dell'acqua calda sanitaria che chiaramente in questo caso ha delle dimensioni importanti data l'applicazione con anche l'integrazione del solare termico in questo caso specifico. Se poi vogliamo aggiungere anche un altro tassello a tutto questo discorso possiamo andare anche ad integrare con la VMC e quindi che cosa succede? In questo ambito ci andiamo a muovere sostanzialmente in un'altra zona possiamo dire così del mercato dove praticamente ci andiamo a confrontare con delle unità combinate che quindi offrono contemporaneamente la possibilità di fare la climatizzazione e il ricambio d'aria tutto in un'unità e sono soluzioni che tra l'altro noi abbiamo studiato. Però poi che cosa succede? Che sostanzialmente io posso avere a disposizione due o tre modelli dove praticamente mi trovo bloccata sia sul dimensionamento della portata d'aria di ricambio che sul dimensionamento della potenza termica e frigorifera. Quindi sostanzialmente mi trovo a combattere con delle coperte corte, d'accordo? Perché io posso avere un'abitazione molto grande che ha un fabbisogno importante in termini di aree di rinnovo ma bassi fabbisogni termici o viceversa alti fabbisogni termici e abitazione piccola. Quindi io sostanzialmente ho molti gradi di libertà con cui confrontarmi e posso sopperire a questi gradi di libertà solo andando a fronteggiare separatamente appunto le esigenze con delle unità ad hoc. Quindi sostanzialmente Iris CN o LHP me li vado a dedicare alla parte climatizzazione mentre la mia unità Altair la vado a dedicare alla ventilazione meccanica, entrambe dimensionate esattamente per i fabbisogni che io ho, diciamo, di cui ho necessità e tra l'altro tutte le portate tarate esattamente per quelli che sono i fabbisogni. Quindi sostanzialmente il punto di congiunzione io poi lo vado a ricavare quindi non più nella macchina ma nei terminali di mandata che sono appunto dei terminali di emissione ibridi. Quindi appunto come vi dicevo ho combinato il tutto nel terminale di emissione e posso gestire separatamente in tutti i periodi dell'anno gli impianti a seconda di quelle che sono le necessità. Cioè durante le messe stagioni in cui non ho bisogno di climatizzare funzionerà solo la WMC. Se invece ho bisogno di riscaldare o di climatizzare l'impianto clima seguirà esattamente la sua regolazione. Ed inoltre cosa molto importante posso assegnare esattamente a ciascun ambiente la portata di rinnovo di cui ha bisogno. Cioè non vado a mettere tutto nel calverone di un condotto di mandata che contemporaneamente mi contiene una quota parte indefinita di area esterna di rinnovo e una quota parte di area di ricircolo perché poi sostanzialmente così andremo a lavorare. Il sistema chiaramente è un sistema scomparsa nel controsoffitto e grazie al dimensionamento tutto basato sulla bassa velocità ottengo silenziosità di funzionamento. Questi sono i terminali ibridi con i quali andiamo a lavorare. Quindi delle bocchette che hanno un condotto, uno o due condotti FI 125 per l'ingresso del clima a cui corrispondono gli anelli di taratura che abbiamo visto al plenum e poi condotti da 75 per l'ingresso dell'area di rinnovo che viene veicolata come abbiamo visto ieri dai condotti FI 75 interno 63 che sono tra l'altro anche da un punto di vista igienico una garanzia per il veicolo dell'area stessa. Quindi possiamo scegliere tra terminali anche qui a doppio filare oppure dei diffusori ad eletti orientabili che sono abbinate a plenum in PVC isolati con uno o due condotti in ingresso FI 125 e due condotti in ingresso 75. Quindi di diversa misura già dimensionati per veicolare le portate di questi condotti e già dimensionati anche in termini di terminale appunto per avere una velocità dell'area di emissione massima di 3 metri secondo. Quindi comunque stiamo parlando di tutto un lavoro che è stato fatto a monte che non deve essere più fatto dal tecnico o dall'installatore. La stessa cosa per i terminali a feritoia che possono essere sia a parete che a soffitto. Quindi in questo caso anche da un punto di vista architettonico possiamo scegliere come installare il terminale e quindi il risultato ad esempio con un impianto Iris LHP qui vediamo proprio uno schema di posa prevede nel controsoffitto di una cabina armadio in questo caso l'installazione dell'unità di ventilazione meccanica controllata e poi abbiamo i Iris LHP che servono diversi ambienti con in ingresso ai terminali misti sia l'area quindi clima che l'area di rinnovo mentre l'estrazione segue il suo percorso standard quindi viene fatta dai locali meno nobili come diciamo in una classica situazione di WMC. Questo è un esempio di ristrutturazione di qualificazione energetica di un condominio con appartamenti di varia metratura dove si è fatto il riscaldamento radiante con passo 15 quindi con passo più ampio mentre la quarta estiva è stata affidata appunto il rinnovo dell'area è stato affidato all'impianto WMC Clima quindi anche qui Altair di piccola taglia e Iris CN con i condotti che raggiungono poi le diverse stanze quindi si fa sostanzialmente tutto nell'arco del controsoffitto basta solo avere appunto la possibilità di stabilire con l'architetto i spazi tecnici da poter sfruttare anche qui la stessa risoluzione quindi Iris CN e Altair dimensionati tutto sulla taglia dell'appartamento e poi condotti FI 125 alle bocchette miste. Queste sono delle viste diciamo così renderizzate dove trovate qui appunto la ventilante con il Iris CN con il suo plenum e in fondo invece vediamo la unità di ventilazione meccanica, i plenum intermedi di distribuzione e questo è proprio il dettaglio della bocchetta mista che poi finisce in ambiente. Quindi sostanzialmente abbiamo la possibilità di cucirci su misura all'impianto e di andare a fare anche non solo la nuova realizzazione ma anche una riqualificazione in cui praticamente introducendo la VMC in un impianto che magari non avrebbe avuto la possibilità di integrarsi diversamente riusciamo anche a fare guadagnare una classe al nostro immobile, al nostro edificio. Allora io chiedo scusa Emiliano se li ho rubato qualche minuto però diciamo erano un pochino tanti contenuti e gli passo la parola per passare ad illustrare le altre rimanenti parti del nostro sistema. Vediamo se c'è. Fisiologicamente è molto ricco il tema quindi ci sarebbero le giornate da parlarci quindi farlo in due ore siamo un po' amici di Spiri Gonzales. Rimango a disposizione in chat nel frattempo. Sì 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 ok allora detto questo mi riallaccio un pochino ad alcune domande che sono state fatte poi e magari argomentiamole anche nel senso che come avete visto nei sistemi canalizzati diciamo che noi gestiamo le zone attraverso più apparecchi piccolini. Questo viene dal fatto e dalla consapevolezza che l'aria non avendo inerzia quindi non ho massa da riscaldare che una volta che il termostato o la sonda di zona mi arrivi a temperatura la zona viene chiusa e comunque ho un certo mantenimento della temperatura estivo-invernale. Sappiamo tutti che i sistemi diciamo di serrande sono on off o qualche d'uno azzardato a farli modulanti ma tendenzialmente non si riesce ad avere una gestione dei flussi dell'aria in maniera efficace. Quindi noi le abbiamo provate diversi anni fa ma sempre con sui test con risultati veramente molto così approssimativi e da sempre utilizziamo diciamo macchine piccole, più macchine piccole per ogni singola stanza. Laddove con l'avvento dei ventilatori ad inverter, ma già con le tre velocità era abbastanza efficace, con il ventilatore ad inverter avete visto che abbiamo una capacità di modulazione dal 10% al 100% si riesce veramente a mantenere una diciamo un inseguimento della temperatura di comfort in maniera molto molto puntuale e con il fine di far modulare in basso quanto più possibile il il ventilatore quindi evitando le fasi di on off quindi le fasi di spegnimento perché sono nei sistemi ad aria sono tendenzialmente delle terie avremmo dei pendolamenti di temperatura quindi immaginate cioè dal punto di vista funzionale un sistema a serrande che cosa fa? Arriva a temperatura, chiude la serranda, dopo mezz'ora la riapre e così via inizia il famoso pendolamento. In un sistema invece con un controllo puntuale per stanza attraverso la modulazione di ogni singolo ventilatore che ha ogni macchina piccolina riusciamo ad inseguire queste condizioni in maniera molto efficace molto puntuale quindi la qualità del risultato è diametralmente diversa ok quindi abbiamo preferito da sempre questa soluzione perché sposa meglio quella che è la filosofia di rossato che quella del comfort e della diciamo precisione di regolazione. bene allora andiamo un po' su gli accessori, gli apparecchi, i modelli insomma vediamo un attimino quali sono le caratteristiche. Ora uno degli accessori maggiormente sottovalutati è il collettore di distribuzione quindi qualcuno prima mi ha scritto se faccio la colonna e faccio gli stacchi per singolo vano. Riesco a equilibrarli? Non si riesce ad equilibrarli per il semplice fatto che logicamente il primo avrà meno perdere carico o avrà bisogno di più o meno portare ad acqua quindi tendenzialmente la regolazione sono devo mettere degli organi di regolazione quindi dei semplici micro bilanciatori di portata. La cosa più semplice e reciva è montare i collettori tipo i nostri che permettono la regolazione micrometrica della portata dell'acqua per ogni singolo circuito e anche la gestione, la termostatizzazione dell'alimentazione dell'acqua stessa quindi come vedete garantiscono fino a 500 litri ora di portata per singolo attacco e la possibilità quindi di una regolazione micrometrica di portata per singolo circuito quindi per singolo apparecchio. Questo permette di avere una regolazione davvero molto puntuale anche della portata d'acqua del delta T e di tutte diciamo quelle cose necessarie che deve avere un impianto che permetta di funzionare correttamente. E questi collettori ci sono da due a dieci vie quindi con anche le testine agli attuatori che permettono quindi di aprire e chiudere il circuito quindi l'alimentazione dell'acqua calda o fredda, maggiormente fredda perché poi si rischia la connessa sull'involucro dell'apparecchio stesso quindi è sempre cosa saggia quindi intercettare e chiudere il flusso dell'acqua o bypassarlo con la valvola a tre vie. Andiamo a vedere una carrellata delle varie soluzioni e quello che diciamo si sta utilizzando maggiormente è l'Iris Slim quindi prodotto molto sottile 12 cm e 9 molto carino quindi se tolgo il radiatore mi vanno lo stesso spessore quindi tendenzialmente è molto utilizzato nella parte di upgrade degli impianti e questo permette di diciamo di un'estetica molto contenuta, carina e anche se vogliamo un design curato di creare diciamo un upgrade al nostro impianto magari avendo la fortuna di avere le tubazioni adeguate facendo quindi un giusto una giusta verifica tra le portate di acqua necessarie quindi verificati carichi termici e individuato l'apparecchio che ci serve quindi ricordatevi sempre che gli apparecchi qualsiasi quindi che si parli di ventilazione meccanica controllata che si parli di venti convettori o di ventilanti deve essere dimensionato al massimo al 70 per cento della portata nominale che significa che se in una stanza ho bisogno di 2 kilowatt non ci metto il ventil da 2 kilowatt ci metterò quello non so da 3 da 2 8 dipende come casco diciamo con le potenze in maniera tale che l'apparecchio non sia con portate d'aria elevate quindi nei guadagno in termini di efficienza nei guadagno in termini di silenziosità perché il ventilatore lavora a regime ridotti e comunque ho anche la possibilità tendenzialmente di tirare giù qualche grado al generatore ricordate sempre che tirando giù qualche grado soprattutto soprattutto se parliamo di pompa di calore ogni grado centigrado che chiedo di produrre in meno alla pompa di calore sono tre punti di rendimento che guadagniamo quindi solamente abbassando tre gradi quindi guadagno quasi dieci punti di efficienza ok quindi tendenzialmente sono piccole ottimizzazioni che però alla fine dell'anno ci portano a risultati importanti bene lo stesso slim può essere messo ad incasso quindi la stessa versione 12 centimetri e 9 alla sua controcassa può andare in ultramezzo in una parete ho omesso di indicarvi che abbiamo due modelli la versione di è per l'applicazione con la domotica che ha un segnale 0 10 da diciamo che viene gestito da diciamo termoregolazione esterna che adesso andremo a vedere più avanti quindi i due modelli quindi la parte quindi di accessori abbiamo la possibilità di montargli una valvola a tre vie a bordo qualora non abbiamo la possibilità di montare la valvola diciamo l'elettroattuatore sul collettore i piedini di appoggio sul pavimento eventualmente controcassa e pannello frontale per il modello incasso allora anche qui da sempre montiamo motore ad inverter dc ad inverter quindi motore blbc qualcuno di voi mi scriveva che in alcuni modelli se si sente un ronzio del motore barra ventilatore e purtroppo è più abbinato alla qualità della componentistica nel senso che ci sono alcuni motori che ha una certo regime di rotazione creano dei fastidiosi ronzii tendenzialmente dopo decine di migliaia di macchine che abbiamo fuori posso dire che sulle nostre questo non accade ma questo viene da una scelta curata della componentistica allora ritornando sulle caratteristiche tecniche quindi avete una batteria con trattamento idrofilico questo permette di avere portate elevate anche in caso di diciamo funzionamento estivo con presenza di condensa perché comunque il trattamento idrofilico rende più liscio e drena meglio l'umidità che si deposita nella nello scambio diciamo nella funzione estiva il filtro sulla parte frontale è facilmente agevolmente diciamo non si sostituisce ma si lava e si disinfetta si pulisce ok è un filtro in classe g1 in polipropilene quindi tendenzialmente è esente da usura a meno che non ci si intruppa con qualche corpo metallico che lo rovini insomma avete visto che abbiamo quindi quattro taglie copriamo quindi un range importante di applicazioni quindi dal punto di vista quindi dell'applicabilità copriamo una vasta una vasta possibilità di applicazioni allora anche qui abbiamo il modello con diciamo regolazione montata a bordo che permette di gestire il singolo apparecchio oppure si può scegliere quindi magari avendo più apparecchi in una in unica stanza quindi montare il controllo solo su una macchina e sull'altra e quindi avremo una master le altre slave montare solo le sonde di temperatura quindi in questo caso attraverso un apparecchio possiamo gestire anche gli altri quindi fino in realtà fino a 24 unità con un unico master e questo ci permette quindi di eventualmente economizzare o semplificare in funzione di quale sia il fine la gestione degli apparecchi il modello quindi da incasso avrà quindi il comando invece remoto installabile sulla 503 sulla scatola quindi esternamente oppure se utilizzate la nostra building automation che è la csc con sensori invisibili e il pannello touch che poi vedremo più avanti quindi oppure semplicemente dall'app rossato e in questo caso quindi possiamo creare delle in realtà personalizzazioni infinite allora considerate che il la regolazione base e che è quella diciamo che avete visto qui non permette la gestione delle fasce orarie è quindi attiva e va a modulare sul ventilatore in funzione della distanza del delta t impostato e rilevato quindi se prendete il diciamo la regolazione basic avrete necessità eventualmente di mettere un cronotermostro per piano che attivi quella zona quel piano nella determinata fascia oraria che vi serve nel caso invece in cui andiate a utilizzare il sistema di regolazione e di building automation csc in quel caso avrete la possibilità di personalizzare praticamente tutto avete tutto sulla app o da pannello touch diciamo localizzato quindi lo si installa allora andiamo un pochino a vedere andiamo un pochino a vedere come configurare il come configurare eventualmente come scegliere gli apparecchi quindi una volta che abbiamo i carichi termici da parte del termotecnico quindi in questo caso vi è un quindi un impianto a classe F con con temperatura 75 gradi 65 quindi ad alta temperatura e nel caso in cui volessimo andare a diciamo selezionare gli apparecchi gli apparecchi che in buona sostanza ci occorrono dobbiamo matchare no come abbiamo detto prima tra la potenza richiesta della singola stanza quindi se volessimo soddisfare il soggiorno in questo caso vediamo un attimino su quale apparecchio ricadrebbe la diciamo la la scelta in questo caso avete visto che abbiamo due kilowatt e 2200 watt quindi ricadrebbe sul mille e due quindi vedete che alla velocità media tendenzialmente abbiamo due kilowatt e cinquantanove in realtà la velocità massima tre kilowatt e mezzo e quindi in questo caso questo caso ci permette logicamente di andare con una velocità media quindi a parte intermedia a due kilowatt e sei quindi siamo sicuramente copriamo l'esigenza e con una portata d'acqua di 449 litri ora ok in quel caso dovremmo verificare la anche la sezione di tubo che in funzione del delta t al quale vogliamo far lavorare l'impianto ci permette logicamente di andare a fare match con la corretta scelta e altra parte poi andremo in cascata a scegliere in funzione della temperatura esterna di progetto la nostra pompa di calore quindi in funzione della temperatura di progetto che scegliamo logicamente andremo a fare anche questo ulteriore verifica quindi in questo caso avendo una avete visto un'abitazione abbastanza energivora con 9,3 kilowatt di fabbisogno con una temperatura ipotetica di progetto quindi magari intorno ai meno due vedete che tranquillamente rientriamo in questi canoni poi logicamente va verificata quello che è dal punto di vista del dimensionamento o della progettazione va verificata soprattutto nelle fasi di upgrade quindi quando vado a trasformare il mio impianto magari se ho su i termosifoni e quindi devo verificare le tubazioni che siano di diametro corretto quindi va verificata soprattutto la capacità delle colonne di adduzione quindi le colonne montanti che mi permettono logicamente di poter trasportare tutta questa quantità d'acqua perché i sistemi a pompa di calore e i sistemi tendenzialmente a venti il convettori si la la diciamo la portata tendenzialmente predilige di lavorare a un delta t5 no si può lavorare avete visto anche delta t10 però tendenzialmente per avere il massimo delle prestazioni sui venti il dobbiamo lavorare sempre a delta t5 perché le condizioni ricordate che le condizioni prestazionali sono sempre a delta t5 quindi comportate sicuramente maggiori quindi se pensiamo di trasformare un sistema da termosifoni a venti i convettori c'è sempre la variabile tubazioni da verificare in maniera approfondita e come dicevo quindi posso diversificare la portata che nella pompa di calore è sempre 5 il delta però nel caso in cui ho necessità perché le tubazioni sono già state messe magari non è stato considerato alcune cose possiamo fare match quindi possiamo far cascare e far rientrare le tubazioni andando a verificare la portata con le tabelle di portata le prevalenze verificata diciamo la lunghezza delle tubazioni riusciamo anche eventualmente a far lavorare il sistema delta t10 il sistema distributivo con le opportune verifiche di efficienza e le opportune verifiche logicamente come vi ho indicato di applica applicabilità bene nel caso diciamo nella famiglia logicamente abbiamo visto la famiglia dei prodotti di basso spessore quindi sistema salva spazio ma abbiamo tutta la l'ecosistema dei diciamo degli apparecchi da controsoffitto da soffitto da parete del tipo diciamo chiamiamoli standard quindi con profondità 22 e allo stato attuale abbiamo tre taglie 22 42 62 i quali tendenzialmente erogano a diciamo il riscaldamento a 45 42 3 e 4 kilowatt visicola 2 quindi come vedete le portate d'aria poi sono indicate puntuali nelle schede tecniche laddove potrete vedere alle varie velocità eventualmente la differenza a differenza riportata anche qui abbiamo standardizzato diciamo che da credo da gennaio abbiamo standardizzato oramai tutti i motori ad inverter blbc permettono una logicamente un consumo molto più basso e permettono di avere una regolazione anche maggiormente puntuale perché si adattano molto molto bene alla variabilità di richiesta quindi non c'è più lo scatto 1 2 3 velocità ma c'è in sostanza abbiamo una modulazione 10 100 quindi dal 10 per cento fino al 100 per cento quindi si adattano molto molto bene quindi anche in un discorso di possibile attivazione notturna abbiamo quindi avendo una modulazione molto in basso permettono di avere un gradiente acustico diciamo chiamiamolo insomma silenzioso ok quindi magari per un funzionamento notturno il poter avere una modulazione così in basso offre innumerevoli vantaggi soprattutto quella della parte impatto acustico allora anche qui potete avere per i modelli logicamente a vista d'esterno il comando digitale a bordo la valvola 3 vie il filtro che di serie eventualmente il sanificatore aria come ha detto Cinzia quindi è possibile montare quindi un sanificatore a bordo macchina che ci permette logicamente di andare a creare un sistema di disinfezione automatico e programmato allora anche in questo caso anche in questo caso il comando a bordo macchina digitale parliamo del modello LM a parete ci permette quindi di individuare in maniera immediata la temperatura rilevata quindi possiamo impostare il set point richiesto direttamente a bordo macchina e il sistema quindi modulerà la portata e la velocità dell'aria in funzione del distanza tra set point richiesto quindi temperatura richiesta e set point rilevato temperatura quindi rilevata tramite la sonda a bordo macchina e questo ribadisco il concetto che rende veramente molto confortevole diciamo il sistema perché comunque non dimentichiamo che il riscaldamento a convettivo ad aria forzata tendenzialmente è privo di condensa no quindi si era provato si era provato un po di tempo fa a mettere la piastrina radiante ma tendenzialmente era più una cosa commerciale che è realmente un'utilità insomma quindi dal punto di vista pratico in realtà non se ne è venuto quasi per niente quindi è stato tolto dalla produzione bene poi l'altro i modelli da incasso quindi parliamo di modello in quindi incasso verticale e soffitto hanno come nel fratello più sottile il comando diciamo dislocato quindi va nella 503 sopra una 503 o va a semplicemente a parete quindi abbiamo il sistema antistratificazione la possibilità di regolazione estate inverno e il termostato di minima come in tutti i modelli termostato di minima significa che l'apparecchio non parte se non gli arriva l'acqua calda o fredda in estate in inverno e un'altra cosa importante che ogni diciamo ogni comando permette di aprire la zona abilitare la zona o disabilitarla nel caso in cui non ci sia chiamata di caldo di freddo e poi abbiamo i venti il a cassetta quindi l'iris ceiling che è presente in sette taglie molto utilizzato in questo caso nel terziario e nel comparto uffici quindi è di facilissima installazione perché tendenzialmente fino al modello 93 va nel quadrotto del controsofitto 60 60 o si fa un foro 60 60 soffitto e quindi si può dire che è il più utilizzato in questo tipo di applicazioni quindi nel terziario uffici e recettivo anche molto utilizzato perché ha la possibilità di essere alimentato dall'ingresso diciamo di rinnovo aria quindi in un abbinamento ipotetico di un sistema vmc lui diventa già un plenum di immissione aria e questo semplifica molto la parte aeraulica distributiva e anche se vogliamo anche estetica insomma quindi con un'unica diciamo con un'unica griglia in ambiente riusciamo a fare caldo freddo e rinnovo rinnovo aria attraverso logicamente una macchina una macchina esterna e l'altra cosa molto molto apprezzata è il sistema di diffusione dell'aria che diciamo sfrutta il principio dell'effetto coanda e rispetto a tutti gli altri apparecchi che sono in commercio non investe l'utilizzatore perché diciamo la cosa più brutta che succede no e quando fate la fila in farmacia quella è la cosa più brutta e siete in fila ed estate vi spara l'aria fredda sto coso in testa quindi io poi non ho neanche i capelli quindi a me è ancora peggio e quindi è veramente brutto arrivare all'aria fredda direttamente addosso ma anche quella calda non è piacevole insomma essere investiti da questo flusso d'aria e l'effetto coanda ha come principio il lancio quindi del flusso dell'aria verso le pareti e il ripescaggio nella parte centrale quindi l'utilizzatore che nel 99 per cento di casi è al centro stanza o tendenzialmente nelle parti centrali non viene investito da questo flusso d'aria calda fredda e questo aumenta in maniera importante la percezione del comfort sicuramente in maniera rilevante allora anche qui abbiamo la possibilità quindi di avere qualora l'installazione sia più di 3 metri e 50 un altro tipo di griglia con la possibilità di avere delle regolazioni del lancio dell'aria poi la valvola a tre vie come avete visto la flangia per entrare con un'aria esterna e di serie e abbiamo in tutte le macchine di serie la pompettina per lo scarico condensa che ci permette di avere una prevalenza di se non ricordo male 70 80 centimetri quindi ci permette di spingere in alto rispetto a collocamento della macchina 70 80 centimetri e questo ci permette di creare le pendenze poi per andare a scaricare le condense in maniera agevole il tipo di regolazione è unificata un po per tutte le macchine quindi abbiamo il top 3 che è quella che gestisce lo slim anche qui la possibilità di creare master slave quindi fino a 24 unità con un unico comando e con differenziando però poi le temperature su ogni singola macchina attraverso la sonda e in questo caso semplifichiamo e economizziamo eventualmente anche l'applicazione quindi si va un po a semplificare il tutto quindi anche qui avete visto che abbiamo un range di potenze importante quindi arriviamo su per ogni singola macchina fino a 10 kilowatt quindi insomma copriamo delle utenze veramente importanti e questo ci permette anche di creare delle applicazioni dal punto di vista diciamo costo beneficio molto molto buone bene e poi abbiamo il sistema iris wall quindi è uno split un idro split da parete e questo ci permette di creare quelle installazioni semplici di andare un pochino a diciamo spesso magari di fan coil a pavimento diciamo non applicabili perché non riesco a avere la pendenza giusta per andare a fare la condensa magari lo split è più pratico già sdoganato un po come sistema come sistema diciamo compatto da parete alto non ci impiccia sotto quindi vi devo dire che il più oramai diventato uno dei più utilizzati il più uno dei più venduti perché comunque diciamo è così sdoganato proprio come soluzione come tecnologia come versatilità di installazione di collocazione allora anche in questo caso trovate due modelli il wall normale e il wall di sta per applicazione con la domodica quindi con la building automation col nostro sistema csc e questo permette come nelle altre versioni di essere gestito e pilotato dalla app rossato da gestione orari temperature in maniera indipendente ogni singolo apparecchio quindi vi comparirà sul vostro sul telefono dell'utilizzatore e l'utilizzatore potrà settare in maniera istantanea quindi più o meno temperatura acceso spento potrà settare e gestire da qualsiasi parte del mondo il suo sistema di climatizzazione e eventualmente anche il sistema di ventilazione meccanica controllata perché con lo stesso si può gestire ambedue le soluzioni allora come fatto come composto abbiamo di serie nel modello normale telecomando infrarossi display lcd che ci indica la temperatura rilevata barra impostata la funzione slip notturna che è importantissima quindi anche in questo caso molta attenzione alla parte impatto acustico per una possibilità di funzionamento notturno ventilatori quindi il motore è sempre BLDC il bracelet è pilotato da inverter quindi anche in questo caso molta attenzione alla possibile quindi alla basso consumo e alla possibile modulazione come abbiamo detto prima 10 100 quindi tendenzialmente abbiamo un range di modulazione continua importante bene questa è la carrellata delle applicazioni adesso vediamo la parte di termoregolazione termoregolazione che tendenzialmente come avete visto abbiamo la regolazione tra virgolette di serie che è già abbastanza evoluta perché comunque sono tutti diciamo display lcd e permettono una regolazione attraverso delle sonde ntc e non da delle sonde meccaniche che sballano 45 gradi come ridere qui abbiamo un sistema top che ci permette di gestire dal nostro smartphone dal nostro tablet dal nostro computer o semplicemente dal pannello touch che viene posizionato nelle abitazioni permette di gestire in maniera indipendente e autonoma e soprattutto facile il nostro sistema di il nostro sistema di climatizzazione qualunque esso sia e possiamo articolare in funzione della complessità dell'impianto quindi in un impianto strutturato molto complesso con tanti apparecchi oppure semplicemente con una ventilante e una sistema di ventilazione meccanica controllare controllata possiamo integrare la gestione il controllo la regolazione quindi fasce orarie piuttosto che la singola temperatura o anche l'umidità tramite il nostro comando quindi abbiamo un pannello da 7 pollici da incasso a parete tramite il quale è possibile in diretta accendere spegnere si basta appiggiare su una delle iconcine che delimita una zona poi in realtà ne posso avere anche 20 quindi la semplicità di utilizzo è stato il primo focus di questo di questa soluzione che è iper tecnologica ma deve essere super semplice quindi è veramente una bella una bella applicazione quindi qui in realtà possiamo poi personalizzare le variabili che sono tendenzialmente o avere uno schermetto a parete che comanda ogni singolo ogni singolo diciamo apparecchio ma tendenzialmente oramai si è andato per il 99 per cento sul pannello touch con le sonde cieche quindi la sonda cieca che va nel tappo del frutto della serie elettrica che si ha in casa permette quindi di alloggiare all'interno di questo tappino dove basta un forellino per la diciamo relazione della temperatura e eventuale umidità e possiamo impostare e gestire totalmente quindi da pannello touch c'è chi nemmeno vuole il pannello touch e in quel caso utilizziamo la soluzione pareti pulite e tramite la quale oramai viene comandato esclusivamente e solo dal dallo smartphone quindi oramai lo smartphone ce l'abbiamo sempre a portata di mano quindi tendenzialmente c'è chi dice che cosa ci faccio io anche di un ulteriore touch quindi lo comando da il mio smartphone poi abbiamo tutta una serie di soluzioni wireless quindi senza fili questa è bellissima perché negli diciamo upgrade impiantistici magari interventi non sono sempre così invasivi quindi non sempre posso fare la traccia passare il corrugato passare i fili e quant'altro quindi è sempre maggiormente utilizzato il sistema wireless che ci permette quindi attraverso il protocollo zeta wave che è uno dei più stabili e più efficienti e di alloggiare quindi le eventuali sonde di rilevazione temperatura umidità e attraverso dei relai wireless dialogano e attraverso la nostra centralina sempre wireless ci permette quindi di avere una gestione dell'impianto super performante e anche facilmente realizzabile perché poi si è bellissimo poi magari non ho il passaggio dei fili non ho il passaggio per conto suo o non ce l'ho per niente quindi tendenzialmente la soluzione diciamo senza fili è sempre più utilizzata soprattutto nell'intervento di riqualificazione allora questo sistema rientra a pieno nella building automation diciamo che è che passa al 110 per cento eventualmente per chi fosse che stesse realizzando interventi a 110 quindi questo è un extra plafond oltre all'impianto di climatizzazione che ha il suo diciamo che ha il suo target di costo la building automation è riconosciuta diciamo come extra extra plafond rispetto al sistema di climatizzazione quindi diverse configurabilità quindi vedete che abbiamo eventualmente la possibilità di andare a gestire quindi in maniera assolutamente personalizzabile qualsiasi soluzione addirittura possiamo gestire l'impianto radiante in caldo e la ventilante in freddo oppure diversi piani diversificati posso avere radiatori piuttosto che radiante e barra sistema ad aria oppure un sistema misto quindi da questo punto di vista è no limits a livello di applicabilità e configurabilità anche nella fase di installazione quindi è molto molto semplice perché andiamo in giro con delle sonde one wire quindi la semplicità di cablaggio anche essa è veramente molto molto carina e dal punto di vista poi logicamente della personalizzazione in funzione di quello che vi serve si dimensiona il sistema in base alle esigenze del cliente ok scorro velocemente magari quest'ultima parte quindi qui l'ho saltato questo è il cablaggio di un sistema wireless quindi possiamo dislocare i relai possiamo dislocare i relai e immaginate che ogni relai fa da ripetitore all'altro quindi dal punto di vista diciamo della anche espandibilità nonostante sia un sistema wireless è veramente molto molto ampia bene allora siamo giunti al termine anche questa questa sera e vi ricordo che entro le 48 ore vi sarà inviato il link link che dovete cliccare scaricare quindi vi scaricate praticamente vi scaricate praticamente il video video corso e entro tre quattro giorni troverete pubblicato sul nostro channel youtube il video video corso ok allora abbiamo qualche minuto in anticipo quindi se volete se volete porre qualche quesito domanda ecco questo è il video voglio chiedere a chi si scollega gentilmente proprio nell'ottica di migliorarci sempre di lasciare comunque un commento una recensione sul corso diciamo su questo video corso perché c'è sempre utile poi come punto di riferimento poi anche per tarare i prossimi appuntamenti assolutamente sì e come dice crista che è intervenuto velocemente lasciateci i vostri feedback ci chiedono il prossimo appuntamento che è sulla termoregolazione prossimo appuntamento è fine maggio sulla termoregolazione e quindi lasciateci i vostri feedback per come diceva cristian ci servono sempre per migliorarci sempre sono sempre molto graditi tanto grazie a tutti per averci seguito per essere stati con noi fino alla fine anche oggi grazie come sempre siete sempre tantissimi ci fa sempre molto piacere tanto vediamo se c'è qualche domanda non credo grazie a tutti voi buon fine settimana grazie buon fine settimana buon lavoro a tutto a tutti grazie a tutti scorrono i titoli di coda bene allora se non ci sono domande un saluto a tutti grazie buona serata e al prossimo appuntamento buona settimana vi aspettiamo grazie a tutti Grazie.